ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di contatori del tempo l'orologio che andremo a controllare oggi è lo yehma superman slim yehma superman slim già il nome dice che è sottile no io ho già recensito diversi yehma superman il 500 mi sembra anche l'heritage e anche il gmt quindi quando ho preso questo orologio e l'ho preso per un certo motivo ben preciso o pensavo di fare una panoramica un po più discorsiva che non veramente dettagliata poi ho cambiato idea e ho deciso di fare come a solito chiaramente la tirerò un po via nel senso che il quadrante l'aspetto generale l'aspetto globale è lo stesso dei vecchi superman cambia un pochino anche di molto ma le finiture lo spessore e soprattutto il calibro ed è per questo che l'ho voluto portare sul canale perché c'è un calibro completamente nuovo in house di manifattura con il micro rotore una particolarità che in poche case si cimentano a realizzarlo quindi volevo per curiosità vedere come è fatto ora ad onor del vero devo anche dire che io ogni volta che faccio una panoramica che studio un orologio una volta fatta per non farmi influenzare prima la faccio poi vado a vedere le altre recensioni che ci sono su youtube sui vari forum sul su la carta stampata e nessuno ha menzionato le cose che andrò a menzionare io nessuno si è accorto di quelle cose che ho notato io quindi i casi sono due o mi sbaglio io e ci sta quindi potrebbe essere anche solamente il mio esemplare che è così oppure si sbagliano gli altri però ad onor del vero anche per fare un po di dissing un po di sano dissing ho visto una un paio di video recensioni italiane su youtube una aveva tutti e due gli orologi perché c'è sia nero che blu io l'ho scelto nero chiaramente sul tavolo e non li ha nemmeno toccati non li guardava non li non li spiegava ha fatto tutta una disquisizione sul discorso della manifattura del valore bla 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 io voglio che mi tocchi l'orologio che me lo provi che mi dici come come funziona cosa c'è che non va e l'altro invece ha fatto la recensione con le foto prese da internet poi alla fine è arrivato a dire a bello l'orologio ma se non ce l'hai per le mani cosa fai la recensione con le foto da internet tra l'altro anche detto che lo spessore dell'orologio è 9 95 non è vero non è 9 95 9 95 è la cassa e il fondello e la ghiera escluso il vetro l'orologio 12 mm di spessore che non è tanto però non è 9 95 ma a prendere i dati sul sito che poi non controlli nemmeno bene quindi ho scoperto ho notato diciamo non scoperto ho notato delle cose che mettono un po in ombra il tutto che però vi vedrete poi nella panoramica per questo ho deciso di farla dettagliata ma fino a un certo punto mi concentrerò un pochino più sul calibro piuttosto che sull'aspetto generale che è sempre lo stesso ora detto questo l'orologio mi è stato messo a disposizione dell'amico giacomo che è il titolare della gioielleria pasquali domenici che parte un ufficiale del canale e mi mette a disposizione gli orologini che vogliono e questo qua è a disposizione da loro perché sono concessionari del marchio e chiaramente offre anche un trattamentino di favore a voi che state guardando grazie giacomo a proposito di giacomo vi ricordo che domenica 12 maggio alle ore 15 ci sarà il quinto raduno del canale sempre lì a viareggio presso la gioielleria pasquali domenici che essendo partner del canale mi mette anche a disposizione tutto quello che voglio per fare queste manifestazioni no quindi si terrà nella zona antistante nella zona pedonale all'interno del negozio ci saranno vari banchetti di marche esterne ci sarà lungi in vulcain oris che è anche sponsor della manifestazione e l'amico calamai orologi calamai quindi ci saranno anche delle novità messe lì sul tavolo dei tecnici a spiegarvi delle cose orologi da provare a gogo un bel regalino per voi una polo da portare a casa poi ci sarà l'amico umberto pelizzari che è testimonia di oris apneista e uomo di spettacolo e chi più ne ha più ne metta ci divertiremo vi aspetto domenica 12 maggio alle ore 15 detto questo vi mostro l'orologio del giorno che oggi è questo bellissimo l'onjinn legend diver da 39 mm è il mio orologino da tutti i giorni diciamo così è uno degli orologi che preferisco al momento no poi si va si viene preferisco quello preferisco quello però quando devo indossare questo qua col suo bracciale a chicchi di riso e la sua bella bag interna girevole bello mi piace l'onjinn legend diver poi sono un amante di l'onjinn lo sapete sia vintage che moderni a me mi piacciono fate voi adesso giriamo la camera diamo una occhiata veloce a questo simpatico yema superman slim e poi ci vediamo qua come al solito per le considerazioni finali che mai come in questo caso sono veramente necessarie iniziamo come al solito con i risultati delle misurazioni effettuate diametro cassa 39.3 mm spessore 12 mm ingombro trasversale al polso 48.2 e interasse ansa da 20 mm misure che rendono l'orologio indossabile da qualsiasi polso con una disinvolta affabilità compatto proporzionato e tutto sommato sottile tra tutte le specifiche infatti lo spessore ad essere rimarchevole 12 mm sono un ottimo risultato ben un millimetro e meno rispetto ai vecchi superman e se si tiene in considerazione il fatto dei 300 metri di impermeabilità diciamo che siamo ben sotto alla media lo spessore della cassa e della lunetta sommati è di appena 9.95 mm il resto è imputabile al vetro zaffero con doppia bombatura e come si sa il trasparente non influisce sulla percezione dello spessore al polso si può notare soprattutto l'esigua sporgenza del fondello rispetto ai vecchi modelli riesce a rimanere all'interno dell'ingombro delle anse senza andare ad aumentare lo spessore generale tutto positivo anche se come vedremo poi non si tratta di un risultato che mi soddisfa appieno soprattutto in relazione al calibro di certo è il lato caro a risultare molto molto sottile tanto che la differenza di proporzioni con l'altezza ghiera può lasciare interdetti in pratica la misura della somma caro più fondello è identica alla misura della torretta data dal rialzamento e dalla ghiera per quanto riguarda le finiture generali possiamo notare un netto miglioramento qualitativo molto ben eseguita la fine spazzolatura laterale che sostituisce il lucido della vecchia versione e di sicuro impatto visivo il sottile bisello di separazione che corre lungo tutta la sua lunghezza una cassa che è da subito percepibile come di qualità con tolleranze meccaniche minime e che mette in mostra una perfetta congiunzione tra anse e bracciale tale precisione l'ho riscontrata poche volte una certa tolleranza è sempre presente da segnalare che le ansie sono piuttosto ricurve verso il basso e tendono ad avvolgere repentinamente il polso un dettaglio che ci tornerà utile tra poco per quanto riguarda il lato a c'è poco da segnalare in quanto l'aspetto è lo stesso dei classici superman che ho già recensito vi rimando a quelle recensioni sottolineo solamente che cambia l'aspetto della sfera secondi che perde la forma geometrica alla sua estremità per diventare filiforme e secondo me ci potrebbe essere anche un motivo tecnico che andrò a spiegare in seguito voglio invece soffermarmi sul blocco ghiera tipico di yema ossia su quel fermaglio che si allenta svitando la corona bene nel momento in cui si va a caricare manualmente la corona l'indice sfrega contro la parte inferiore del fermaglio che è piuttosto acuminata fastidioso a parer mio la carol più sottile fa sì che suddetto fermaglio sporca più del dovuto probabilmente sarebbe stato più corretto dimensionarlo alle nuove misure detto questo passo subito la bracciale perché voglio lasciare il calibro per ultimo se tratta di un design a squame veramente apprezzabile alla vista ritengo sia uno dei punti forti dell'estetica globale a finitura satinata fa il paio con la cassa e risulta perfettamente accoppiato a quest'ultima mi piace il fatto che era a stremi dai 20 mm ai 16 della clasp così come lo spessore che diminuisce di circa mezzo millimetro man mano che si va verso la chiusura non apprezzo invece che sia poco flessibile l'architettura a piccoli segmenti lascerebbe pensare ad un bracciale alquanto morbido sul polso in realtà forma un arco rigido che poco fa per adattarsi al polso segnalo inoltre in piena pressione a prima vista sembrerebbe esserci un taglio per il cacciavite ma le frecce di espulsione all'interno del bracciale non danno adito a dubbi per quanto riguarda la clasp è sì di ottima fattura ma pare una di quelle viste e riviste la classica chiusura a scatoletta di fornitura generale senza picchi di originalità è comunque presente un'efficace prolunga a scatto finalizzata ad indossarlo esternamente sugli indumenti fatta questa panoramica generale vorrei spendere qualche parola sul lato b e sul calibro innanzitutto per questo nuovo calibro di manifattura si è optato per un fondello trasparente e la soluzione mi trova d'accordo fa piacere vedere un calibro differente dal solito con finiture particolari e soprattutto così ampio da non mettere in mostra nessun effetto ciambella si tratta del nuovo movimento cmm punto 20 33 rubini 70 ore di riserva di carica 28.800 alternanze orarie e una precisione di marcia dichiarata a meno 3 più 7 secondi al giorno gli organi di regolazione come ad esempio bilanciere glussidur e scappamento sono realizzati in svizzera mentre i ponti e le piastre principali sono prodotti da iema nei suoi lavoratori di morte la prima cosa che si nota il tipo di finitura il trattamento a ld si tratta di una deposizione gassosa che garantisce un rivestimento uniforme con una precisione di circa un nanometro uno strato talmente sottile da consentire alla sabbiatura superficiale e agli angoli lucidi di rimanere ben visibili nella propria finitura originale personalmente lo ritengo un punto positivo una scelta che mira alla contemporaneità a realizzare un calibro figlio dei tempi senza andare a riprendere gli stilemi classici del passato ciò che però è il punto forte del calibro è il micro rotore una caratteristica poco utilizzata che porta con sé dei vantaggi e delle complicazioni il micro rotore è integrato nel movimento e quindi allo stesso livello dei ponti principali ciò comporta una riduzione di spessore rispetto ad un calibro con rotore standard e il fatto che si possa osservare l'architettura generale che non è qui oscurata dall'ampia massa oscillante che solitamente si vede per contro è sicuramente meno efficiente in quanto l'inerzia sviluppata da un rotore così piccolo è inferiore a quella sviluppata da un rotore a massa oscillante classica per questo motivo la carica è bidirezionale e il materiale utilizzato è il tungsteno molto pesante si noti anche lo spessore importante del rotore proprio per avere una maggior quantità di tungsteno e aumentarne l'efficacia il gioco vale la candela sì e no di certo mette in mostra una capacità progettuale non indifferente e quindi eleva iema ad un livello più alto rispetto ai suoi standard per contro si utilizza il micro rotore per ridurre lo spessore ma qui stiamo parlando di 3.7 millimetri laddove un semplice eta 28 92 o anche un sellita sv 300 è 3.6 un decimo di millimetro in meno direi che quindi lo scopo di avere un calibro sottile non lo si è raggiunto a discapito della scelta occorre anche segnalare che il micro rotore ha un diametro piuttosto piccolo e di per sé meno efficiente rispetto ad altre case come lange unzone o panerai che propongono questa tecnologia utilizzando delle masse oscillanti di diametro maggiore e quindi più efficienti c'è poi un altro aspetto tecnico da prendere in considerazione ossia l'architettura del treno del tempo in un calibro standard la ruota centrale è al centro e su quella viene innestata la sfera dei secondi in un calibro con micro rotore non c'è spazio in quanto il rotore stesso ad occupare parte di quella sede il treno delle ruote viene così spostato lateralmente senza più avere un ingranaggio centrale si avrà quindi che la ruota prima quella dei secondi si troverà disassata rispetto al perno della sfera centrale per questo motivo pochi orologi con micro rotore presentano la sfera centrale mentre la maggioranza presenta sul quadrante i piccoli secondi decentrati risulta palese che vi deve essere un rimando per portarla in quella posizione e questo comporta degli spiacevoli a parer mio inconvenienti in primis non è presente lo stop secondi ma questo è un dato quasi irrilevante non è necessariamente un'esigenza primaria il punto da sottolineare invece il comportamento innaturale della sfera secondi quando si estrae la corona a volte fa un salto indietro di una manciata di secondi altre volte non lo fa se poi si sposta la sfera ora in senso anti orario tende a fermarsi per poi ripartire altre volte va indietro con un salto e si ferma per poi ripartire quando si ruotano le sfere in senso orario insomma un comportamento irrazionale che crea confusione a livello di comprensione dei fatti di ciò che sta accadendo veramente all'interno dell'orologio suppongo che ci siano delle motivazioni tecniche dietro tutto ciò ma il comportamento innaturale crea un certo disagio a suffragio di ciò ho notato che la maggior parte dei comportamenti anomali avviene quando la sfera secondi si trova tra ore 6 ed ore 12 un altro dettaglio che ho poi notato è l'insolito diametro del bilanciere che risulta il quanto piccolo rispetto a quanto siamo abituati a vedere non so quanto possa pesare a livello prestazionale sta di fatto che è una scelta fuori dal comune possiamo tornare in presa diretta per le considerazioni finali occorre poi parlare della sfera secondi filiforme secondo me l'hanno fatta così per ovviare a possibili problemi precedentemente aveva un marker geometrico sulla sua estremità e quello rappresenta un peso per la lancetta secondi un peso che avrebbe potuto evidenziare questo maggiormente questo piccolo difetto che fa l'orologio quando viene estratta la corona e quando si regola l'orario probabilmente con un peso sulla sua estremità avrebbe potuto anche mostrare un certo zoppicamento durante l'utilizzo normale è una mia supposizione che viene però dal fatto dei secondi indiretti del miota 8000 voi l'avete visto il miota 8000 in alcune situazioni tende a zoppicare per via dei secondi indiretti ecco qua la situazione potrebbe essere anche simile quindi secondo me l'hanno fatta filiforme per renderla più leggera e per non dar fastidio agli ingranaggi interni nel momento in cui ruota poi abbiamo il discorso del micro rotore qua io l'ho detto il micro rotore il micro rotore si realizza solitamente va bene per mettere in mostra le proprie capacità tecniche ma per rendere un calibro più sottile più sottile a parità di movimento automatico oppure per mettere in mostra il calibro nella sua interezza non essendoci rotore oppure per miniaturizzare infatti in alta oroleggeria si utilizza per aggiungere le varie complicazioni occorre molto più spazio per creare una trama fitta di ingranaggi contro ingranaggi molle quindi si riduce il diametro del micro rotore e c'è più spazio per il resto non è questo il caso ma nell'alta oroleggeria è così qua il discorso dello spessore non si è non si è raggiunto perché se l'it sv 300 è un decimo di millimetro più sottile di questo calibro qua allora non serviva farlo bastava metterci un sellit sv 300 qua era anche più sottile tra l'altro l'orologio 12 12 mm è sottile si può considerare sottile ma non è quel mostro di sottigliezza non è che si è raggiunto tra l'altro 300 metri va bene ma l'heritage 500 che è un millimetro più però 500 metri va bene detto questo il calibro a me a vista piace perché sulle finiture non ho nulla da dire che che se ne possa dire qualcuno che non è non c'è il perlage non ci sono tutte quelle decorazioni come usa classiche come quelle che si usava in passato ci troviamo di fronte al moderno no a forma d'arte moderna il nero satinato sabbiato e poi con questa strato gassoso depositato sopra un nanometro a me piace e mi piace anche il fondello aperto così poi il discorso c'è il discorso qua della del fermaglio della ghiera che dà fastidio anzi in questo momento ecco in questo momento anche se avvitata la corona lo sento con l'indice lo sento quindi quando uno svitta la corona e poi carica manualmente dà fastidio dà fastidio sotto bisogna stare attenti a non a non tagliarsi quasi quasi mi dispiace dirlo ben così perché probabilmente il lato carurro l'hanno abbassato e quindi fermaglio l'hanno lasciato alto uguale e spunta di sotto è proprio detta papale papale poi c'è questo simpatico problema qua ossia che fa è rigido il bracciale è rigido va ad arco occorre dire che in questo caso però le anse tendono ad andare verso il basso repentinamente avvolgono il polso e quindi un po di spazio c'è se ora se voi avete il polso più piccolo di questa larghezza qual problema non è più l'orologio ma è la vostra salute no io sono convinto che si possa indossare da qualsiasi polso proprio per queste anse così però c'è da dire che avrebbero potuto farlo leggermente più è come dire morbido più fluido che si adatta al polso in maniera migliore poi ci sono anche punti positivi e non è che lo sto distruggendo questo orologio perché le finiture sono superiori a tutti gli altri jama che ho visto finora proprio le finiture dei biselli e della satinatura l'accoppiamento del bracciale alla cassa veramente ha dell'incredibile veramente non ci non ci passa uno spillo come si può dire lo spillo anche tanto vabbè poi è simpatica l'inserto ghiera in zaffero il vetro zaffero la legibilità a tutto quello che volete le specifiche del calibro meno 3 più 7 ora io non ho controllato ma perché non fidarmi se sono fuori lo mandi indietro in garanzia no la casp va bene a parte che sembra un po di fornitura la prolunga ottima insomma è un bello orologio ha queste particolarità che vi ho elencato quindi sta a voi decidere poi se può essere l'orologio che fa per voi o meno potrebbe essere perché acquistarlo perché uno se uno che vuole un orologio con un calibro esclusivo perché in questo caso non ce l'ha veramente nessuno questo calibro col micro rotore fatto in house da yema è solo su questo orologio per ora che io sappia lo metteranno anche su altri però sicuramente sugli orologi di yema non è che la rivisitazione di qualcosa di qualcos'altro vuoi dire che c'ho un micro c'ho il calibro col micro rotore in house è chi lo vuole lo può prendere anche se ho certe complicazioni certe soluzioni tecniche le lascerei alle case no è come un tourbillon tourbillon io lo prenderei su a parte che è inutile come sono inutili la maggior parte delle complicazioni ma un tourbillon lo prenderei su un orologio di alta orologeria che so che me l'hanno fatto per con una certa cognizione di causa no anche se non mi serve un bel tourbillon di alta orologeria al suo senso ho cominciato su orologi fatti da mille duemila euro come 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 l'hanno fatto non lo so non ha senso no è come mettere i cerchi da 21 in lega su un ducato non ha senso le metti su altri tipi di macchie va bene dai a me sembra che di aver detto troppo io spero di avervi dato delle nozioni delle informazioni utile a decidere se un orologio fa per voi o meno queste sono quelle che io ho riscontrato spero che il buon giacomo ne venda bizzef però io quello che ho visto è questo boh mi sembra di aver detto tutto ragazzi vi ringrazio per essere arrivati fino a qua e vi ricordo gli appuntamenti fissi che come sempre sono quando voglio io il più spesso possibile qui su youtube l'ho